stop a stand e mercati in piazza napoleone gli ambulanti traslocheranno in san francesco è questa la decisione dell'amministrazione pardini che ieri sera ha ricevuto il via libera da parte del consiglio comunale una scelta non condivisa da parte dell'opposizione che durante l'assise ha riportato i timori degli operatori contrari al trasferimento la giunta ha però deciso che fiera di natale quella di pasqua e la tradizionale iniziativa mercatale del settembre lucchese si dovranno trasferire nella piazza san francesco a spiegare i motivi è stata l'assessore al commercio paola granucci spiegando che piazza napoleone non ha i requisiti funzionali per lo svolgimento del mercato mentre piazza san francesco sarebbe invece più idonea e già collaudata per iniziative simili novità ci saranno anche per il mercato dell'antiquariato a cui vengono aggiunti sei posteggi per ulteriori attività ma questo è stato un procedimento che è fortemente voluto dall'amministrazione per valorizzare la zona est della città e in particolare piazza san francesco e dare la possibilità alla fiera di napoleone che si svolge poi anche a settembre e a pasqua di cogliere questa opportunità di reinventarsi e di rinnovarsi anche per quello che riguarda anche l'aspetto estetico e speriamo anche nella merce il trasferimento verrà decorso un anno di tempo quindi a dicembre 2024